Portare freschezza di idee, progetti innovativi ed una visione futura della città al passo con le esigenze di ogni fascia d'età. E' questo lo spirito con il quale l'amministrazione comunale si apre ai giovani, indicativamente compresi tra i 16 e i 25 anni, chiamati anche ad esprimere le loro aspirazioni, aspettative e desiderata. Se noi vogliamo far crescere questa nostra società, la vogliamo valorizzare, dobbiamo coinvolgere anche i giovani. Non possiamo pensare che la società la trasformiamo soltanto noi, mondo degli adulti, se così si possiamo chiamare. E' un modo per coinvolgere e avere una visione e anche qualche proposta innovativa che possa essere importante per la città. Da parte nostra l'impegno che si emergeranno suggerimenti, idee interessanti e forti che possono essere utili. Noi le integreremo anche nei nostri percorsi di mandato, nelle nostre politiche annuali. La sfida è quella, attraverso anche i giovani, di migliorare e rendere questa città sempre più interessante e forte, ma che sappia dare anche sempre risposte nuove anche ai nostri giovani. Cento giovani più o meno divisi in gruppi di lavoro che dovranno cimentarsi con tematiche strategiche per il futuro delle nostre città. Aree di indirizzo non ne sono state date volutamente per non imbrigliare la fantasia dei ragazzi, ma sicuramente anche alla luce dei recenti dinamiche internazionali, i temi dell'ambiente, della sostenibilità e delle smart city, assieme a innovazione e lavoro, entreranno quasi obbligatoriamente nei dibatti di dei ragazzi, che sono già chiamati al primo appuntamento questo mese, il 20 di dicembre, a ritrovarsi nella sala ipogea della Mediateca Montanari per il primo brainstorming. Sono veramente molto orgogliosa di questa idea che il sindaco ha voluto mettere in campo per la nostra amministrazione, un laboratorio di idee dei giovani durante il quale noi avremo la possibilità di capire quelle che sono le loro sensibilità e le loro idee su Fano e per Fano e che noi dovremo avere la capacità di ascoltare e di rendere come atti amministrativi reali. Per cui io ci tengo moltissimo e invito tutti i giovani che hanno voglia di partecipare, di esserci, il 20 dicembre alla Memo la 17 per discuterne con noi.